Prenderà il via alle 8 del mattino di domenica sul circuito di Motegi il Gran Premio del Giappone, il sedicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2014. Nelle libere e poi in quelle ufficiali sabato che hanno stabilito la griglia di partenza, a sorpresa la polla è andata la Ducati di Andrea Dovizioso, con il tempo di 1.44.502. A pochissimi millesimi invece Valentino Rossi il secondo. Il possibile vincitore del Mondiale, l'Iberico Marquez, ha chiuso al quarto tempo. Terzo per Dani Pedrosa, protagonista nel finale di una caduta senza conseguenze.